E' stato fatto un atto infame, infame, perché non c'eravamo uno, c'erano quattro ragazzi e avete pestato quattro ragazzi. Oh, verrà, c'è stato fatto! Non c'era, non c'era niente, non c'era niente. Alla ragazza di 17 anni, la protesta perché stanno facendo una cosa illegale. C'è Teresa, ci devi andare, ci devi andare. Dov'è Teresa? Cerca Fabrizio, ci devi andare.